Grazie a tutti. A parlare di questo tema, dei vaccini e della poliomielite. Sulla poliomielite sono più, come dire, interessato e formato, perché ho avuto occasione durante la mia vita professionale di trattare questo tema in maniera più diretta. Quindi vuol dire che adesso non ha più niente da fare, visto che l'abbiamo debellata. Bravo, quindi possiamo fare la televisione. Allora, l'incidenza per anno delle malattie infettive. Su questo vengo dietro a quello che diceva il professor Accolla, molte malattie infettive conosciute, quale più, quale meno, poliomielite, difterite, epatite B, morbillo, varicella, epatite talde tali, parotite, arrosolia, tutte cose importanti e ben conosciute anche dalle mamme. Ecco che queste, vedete in questa proiezione, una figura piuttosto evocativa che spazia dal 1945 ad oggi, grossomodo, vedete in tutte queste colonne il punto dove è stato immesso il vaccino e poi il numero di casi registrati. Usualmente quando è stato immesso in commercio o comunque in uso mondiale il vaccino, noi abbiamo avuto una diminuzione enorme dei casi. Magari non l'eradicazione, ma sicuramente un'enorme diminuzione, quando più o meno vistosa o più o meno importante. Ma certamente sempre una diminuzione che è corrisposta con un maggiore stato di salute. Ora, io vi faccio in questa mia piccola presentazione tre esempi soli, tre malattie caratteristiche. Difterite, che diceva Cecchi Paone, cosa è difterite? Difterite è una malattia letale, tanto per dirsela fra di noi. In Germania, negli anni della prima guerra mondiale al, supponiamo, 30-40, c'erano due 300.000 casi l'anno. Negli Stati Uniti 800.000. Se la mortalità fosse anche uno su 10 o su 15 o su 20, potete immaginare il numero. E al di là di questo, anche chi non moriva rimaneva danneggiato. Quindi non è una passeggiata. Danneggiato è una tossina potentissima che blocca la sintesi proteica e innesca tutta una serie di danni, oltre che quelli locali dove c'è stata l'infezione, poi in tutto il corpo, compreso il rene, il cuore e anche l'encefalo, eccetera. Quindi la persona ne emerge, se ne emerge, non magnificamente. Per cui il primo vaccino che vi presento è il primo vaccino che dobbiamo a un grande scienziato tedesco, si chiama Emil Bering. In realtà è stato chiamato Von Bering perché i tedeschi poi gli hanno dato l'onore di questa parola, Lafon, che viene attribuito ai nobili e allora ha avuto il premio Nobel nel 1901. E questo perché? Perché ha spiegato, ha riuscito a fare un'antitossina, un siero antidifterico, che poi è stato il sistema per curare, ma più che altro è stato il sistema per indicare come fare una vaccinazione in maniera tale che gli anticorpi non li facesse più il cavallo o un animale esogeno, ma li facesse l'individuo. Quindi lui ha introdotto obiettivamente la vaccinazione antidifterica. E vedete nel giro degli anni in cui il vaccino è stato introdotto, 1925, in piccole parti della Germania, e come è andato giù il numero di malati. Si vedeva solo 10 malati l'anno nel 1985. Oggi siamo a zero praticamente. Quindi ha riuscito, questo anche nelle altre nazioni, questo è un dato tedesco perché riguarda uno scienziato tedesco. La seconda che vi faccio presente, tutti noi siamo vaccinati contro il tetano. Il tetano è anche un'altra cosa micidiale, è un batterio ambientale, quindi tutti noi teoricamente possiamo essere esposti. E questo era di grande importanza nei traumi, nelle guerre o cose del genere. Vedete qui come uno tutto contratto è la morte del settimo giorno. Questo è un dramma assoluto. Anche chi eventualmente guarisce rimane disgraziatamente molto molto lesionato. E comunque questi due scienziati tedeschi, sapete che i tedeschi sono piuttosto diretti, Wolters e Demel, si sono inoculati un tossoide, una tossina tetanica che era già conosciuta, resa non tanto tossica. Con questa loro si sono immunizzati. E siccome ritenevano, avendo fatto delle prove, di essere fortemente immunizzati, si sono inoculati, uno con l'altro, due o tre dosi di tossina tetanica non toccata. E sono rimasti vivi. Dimostrando che questa cosa funzionava nel 1942. Da cui immediatamente è stato messo a punto un vaccino antitetanico, che è più o meno del solito, un pochino peggio, ma siamo lì, che usiamo oggi, che ci protegge anche dalle piccoli urti sul giardinaggio, cose di questo genere, in cui potremmo contaminarci, e è diffuso in tutta la popolazione, senza nessun problema. Ma ai tempi era di urgenza e di uso immediato per la seconda guerra mondiale. Questo sia in Germania, sia negli Stati Uniti, sia in Inghilterra e via di seguito. Quindi fu una scoperta di grande utilizzo immediato per le guerre mondiali. E qui vediamo come la diffusione a livello mondiale della vaccinazione antitetanica, che costa pochissimo, lo vediamo sulla scomparsa di una malattia, che è il tetano neonatale, che a Varese non si vedrà probabilmente da 50 anni, ma diciamo nel mondo si vede ancora, ma questo numero, avendola praticata in tutto il mondo con un vaccino non costoso e molto semplice, ecco che protegge anche i bambini in qualsiasi nazione, ancora in via di sviluppo o in difficoltà. Quindi è molto importante un vaccino di questo genere. Ma quello su cui mi voglio concentrare è la scomparsa, più o meno esatta, più o meno completa, della poliomielite. Poliomielite, questo è un esempio dagli Stati Uniti. Ecco, poliomielite negli USA 1955. Poliomielite 55 perché il vaccino è stato introdotto nel 55. Ma la figura fa vedere dal 1915 al 1969. Vedete, c'erano dei picchi epidemici, quale hanno di più, quale hanno di meno. Come ha detto Cecchi Paone, noi la diagnosi di poliomielite non c'era un gran bisogno di epidemiologi, bastava andare al passeggio a Napoli o dovunque, a Roma o a Torino, uguale, vedevate la gente che camminava male. Quindi si vedeva subito l'epidemia, non è che ci volesse un fenomeno. E quindi era molto semplice e dopo questo vaccino introdotto nel 55, ecco che la poliomielite nel giro di 3, 4, 5 anni in una nazione come gli Stati Uniti era quasi scomparso. Questo per quale motivazione? Due motivazioni. Uno, per combinazione e fortuna nostra, Roosevelt, il presidente che ha fatto quattro mandati negli Stati Uniti, è stato affetto da polio all'età di 39 anni, con difficoltà di diagnosi. Perché? Perché la polio era una malattia da bambini, quindi lui non camminava ma ci avrà avuto qualcos'altro. In realtà ci aveva la polio. E secondo, questo uomo si è recuperato moltissimo dalla polio, ha recuperato con una forza d'animo enorme e nel 32 si è rimesso in politica e è diventato presidente. Morale siccome era molto sensibile... No, no, sta ancora andando su Roosevelt, perché lui in sedia a rotelle ci ha aiutato contro i nazifascisti. Sempre con la sedia a rotelle, piccolina che se l'era fatta fare apposta di bambù, non so come perché fosse un po' più gentile, diciamo, però c'aveva la sedia a rotelle. E Roosevelt siccome era molto sensibile giustamente ai problemi dei bambini, degli adulti con la polio e via di seguito, ha messo su il primo programma di ricerca scientifica medica a finanziamento nazionale, questo nel mondo, grosso modo, il più grande, il primo grande. E con questo sono stati prodotti i vaccini antipolio, i quali, introdotti per la prima volta nel 55 e poi successivamente nel 60-62, hanno debellato quasi la polio, più o meno in tutti i paesi. Ora, quali sono stati gli scienziati beneficiari dei finanziamenti, ma più che altro che hanno portato i risultati? Sono stati due, Jonas Salk e Albert Sabin. Ora, uno ha prodotto un vaccino così chiamato inattivato, vuol dire che ammazzava il virus, ecco, in pratica. Quest'altro invece ha trovato dei virus che di per sé erano meno potenti, meno lesivi, e pertanto dava questi virus così alle persone. Ecco, ovviamente, è un metodo più economico, più efficace, più semplice da somministrare. Quello che ha ricevuto Cecchi Paone, non so se a Napoli o dove, ma comunque l'ho ricevuto anch'io, quindi noi siamo sempre vivi per questo. E questo è quello inattivato che oggi invece viene preferito. Ma tutta questa operazione di produrre questi vaccini, chiaramente, non è stata banalissima, perché è una cosa inventare, è una cosa a immettere in ampio uso a livello nazionale o internazionale. Allora, il nostro amico Sabin, che era un grande personaggio medico, ma anche un grande personaggio di relazioni, eccetera, essendo di origine polacca, lui ha messo su una cooperazione tra gli Stati Uniti e la Russia in tempi di guerra fredda e che è andato dal suo collega più autorevole che aveva fra i virologi in Russia, che si chiamava Mikhail Chumakov. Questo Mikhail Chumakov comandava l'istituto di encefaliti e malattie virali di tutto l'USSR e aveva un territorio sotto la sua controllo di oltre 8.000 chilometri, inclusa tutta la Siberia. Quindi era un potentissimo personaggio, ma non solo un potentissimo personaggio, un uomo di grandissima potenza, intelligenza e capacità. E Chumakov è questo qui, che vediamo, a parlare con Sabin a Mosca, che stavano organizzando cosa? La produzione dei vaccini di Sabin in Russia e poi il loro successivo trial sulla popolazione che in Stati Uniti avevano delle difficoltà a voler organizzare. Pertanto, quando gli Stati Uniti hanno visto che il trial sovietico aveva funzionato nel 1960, nel 1961 ne fu approvata la produzione di quel tipo di vaccino Sabin negli Stati Uniti e è stato iniziato anche l'uso negli Stati Uniti. Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato le vaccinazioni a livello internazionale, ma utilizzando il prodotto russo. Quindi per anni c'era discussione, meglio quello russo, quello americano, sono uguali, non lo so. Comunque hanno collaborato tutti e due molto bene portando il vaccino a livello di uso mondiale. Su questo è una piccola curiosità. Questa è una lettera di Sabin che serve per sponsorizzare l'entrata negli Stati Uniti nel 1992 dopo la caduta del muro di Berlino, la di Fterite nella Unione Sovietica, eccetera, del figlio di Chumakov Mikhail, che si chiamava Konstantin, che si chiama Konstantin. E lo sponsorizza spiegando quali sono i meriti di questo ragazzo, ragazzo si fa per dire, diciamo che aveva capacità nella virologia molto pronunciata. Ora, questo è l'amico Chumakov, il col quale abbiamo lavorato, anche l'Università dell'Insubria, dove, eccolo qui, questo vedete che è un russo, tranquillo, simpatico, e abbiamo discusso come poter ritrovare nelle patologie croniche il poliovirus. Insieme a lui abbiamo portato a pubblicazione alcune cose, anche nel 2017, ma anche successivamente, insieme a colleghi dell'Insubria, fra cui Salerno, fra cui Bono e compagnia. E questa è stata una soddisfazione personale. Questo è un altro conoscente amico, che è Nils Fransen. Perché ho questi amici? Perché essendo io che cammino male, mi hanno preso sempre per polio. Poi mi hanno detto, ma siccome te ti intendi di virus, dici, perché non ci aiuti? Dico, ma guarda, di polio non l'ho mai avuto, non me ne intendo. E insomma, bene o male, qualcosa ho imparato. E allora, anche questo, che è un regista danese, vedete, è un bell'uomo, eccetera, eccetera, valido e tutto il resto, ha fatto la polio nel 52, all'età di due anni. Guardate cosa ha ricostruito il regista, basandosi su filmati, immagini e robe del genere, poi, eccetera, del suo tempo, 1952, Copenaghen, Copenaghen ha chiamato il film l'epidemia, l'epidemia perché questo era lui e questo è lui adesso. Quindi, certamente ha fatto un po' di difficoltà. L'epidemia che era avvenuta a Copenaghen a settembre del 52 era un'epidemia particolarmente intensa. Vedete, non c'erano computer, lo sapevamo, ma c'erano gli spilli sulle piantine e quello si faceva un bel lavoro, però era impressionante. L'ufficio di igiene o cose del genere aveva questo tracciato ed era impressionante. E questi erano i bambini ricoverati al quale con addirittura degli ausili respiratori e via di seguito capite facilmente la difficoltà della situazione. Siccome settembre era ancora un tempo decoroso, un clima ancora un pochettino illuminato, portavano i bambini o i malati all'aperto per tenerli un pochino fuori. Questo è il nostro Franzen che sta cercando di ricamminare e questa è la sorella che anche lei è stata rovinata. E quindi questa è l'epidemia e Franzen dice stop la polio perché questi sono chiaramente i polmoni d'acciaio di cui ce n'erano molti, soprattutto negli Stati Uniti, non molti in Europa. E questo è un bambino molto carino, molto sorridente, vedete, dice stop la polio e date il vaccino. è un ragazzino di grandi speranze, evidentemente molto maturato in questo polmone. Forse abbiamo bisogno di un polmone d'acciaio per migliorare. Per migliorare. Questo invece è quel ragionamento che faceva il collega Roberto Accolla il quale dice perché i miei genitori non mi hanno fatto vaccinare per la polio? Ecco, quelli giocano e lui no. Questo è molto efficace. Infatti gli dettero il premio Pulitzer nel 57 ha questo tipo di disegno. Ma oggi, 2017, nonostante tutti i bellissimi vaccini e tutte le nostre sofisticate medicine e prevenzioni, Pakistan, 2017, bambino ancora con polio. Nel mondo, bambini in situazioni di emergenza vaccinati, bambini qui perché le foto sono più belle dei bambini, ma ci sono anche adulti vaccinati in situazioni di emergenza. Qual è la situazione? La situazione è che c'è ancora delle piccole sacche di polio e che tutte queste organizzazioni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Rotary International, la Fondazione Gates, il Centro delle Marchie Infettive, l'Unicef, eccetera, degli Stati Uniti, Unicef e Company, hanno promosso una organizzazione cooperativa la quale coinvolge 200 paesi, 600 milioni di bambini o di persone vaccinate, 4 milioni di volontari, fra questi ci sono i rotariani, lo sapete, ma ci sono anche altri ovviamente, e 3 miliardi di dollari di investimento. Lo scopo di questo partito 3, 4, 5 anni fa era di mettere il mondo polio free nel 2018 e questo è una bellissima idea. Peccato che nel 2018 sono ancora registrati casi o isolamenti di poliovirus ora qui si vede un pochettino male ma in diversi punti ampiamente diffusi su tutto il territorio mondiale incluse alcune aree sul sud Australia. Quindi la situazione non è così facilmente dominabile. La situazione dominabile è parola che ha a che fare con la eradicazione togliamo di mezzo dal nostro mondo dal nostro pianeta il virus dell'apolio cosa teoricamente possibile. E vedete qui abbiamo il virus che è associato a vaccino questo questi non sono virus diciamo nativi selvaggi così chiamati ma sono virus derivati dai vaccini sfortunatamente ideati o prodotti da Sebin il quale si ritrova una scia di mortalità e di danni a distanza di ormai 50 anni più o meno e li trova disseminati un po' su tutto il mondo perché sono stati utilizzati in tutto il mondo. Quindi questo è un argomento No, no lui aveva fatto il massimo ma la biologia non perdona è molto difficile la biologia da controllare in ogni caso questi sono i punti in Somalia per esempio ma ci sono tutte le cartine sull'internet e queste sono la Papua Nuova Guinea perché è interessante Papua Nuova Guinea perché Papua Nuova Guinea non è connessa via terra con nessuno dei territori che abbiamo visto prima quella ci deve arrivare con non so come con l'aereo o la nave quindi come fa il virus arrivare in Papua Nuova Guinea ci è arrivato con i vaccini e quindi si pensa oggi che l'eradicazione della polio non sia ancora possibile questo non significa che non è possibile non è ancora possibile e che possa convenire limitarsi a ridurre mantenere la polio a bada ma ridurre l'incidenza di morbillo malaria altre infezioni per i quali sono disponibili vaccini efficaci da decidere regione per regione o modo per modo finanziamento per finanziamento professore scusi non dia per scontato e non ci lasci con l'ansia mi diceva il professor Accolla che poi la cosa è stata risolta cioè la scia post Sabin è stata poi gestita con un nuovo vaccino che è in grado di attaccare anche lei dice di no no mettetevi d'accordo lui mi ha messo tranquillo no diteci perché se no io ho capito che questo in quel caso il virus della polio è mutato e quindi il vaccino originario non serviva più niente allora queste popolazioni non avevano copertura vaccinale per cui nel momento in cui si sono creati queste vaccinazioni col Sabin che è un virus attenuato è venuto fuori che la copertura vaccinale in quelle popolazioni non c'era allora purtroppo alcuni di questi hanno avuto delle recrudescenze da questo virus che si è trasformato si è mutato ed ha influito sulla popolazione non vaccinata per cui questa popolazione non vaccinata è affetta da polio ma i parenti e gli amici possono essere immunizzati allora certo adesso se noi vacciniamo quella gente lì in Papua Papua Nuova Guinea stanno vaccinando o hanno finito di vaccinare non lo so 5 milioni errotti di persone con uno sforzo enorme per una nazione diciamo povera diciamo così non in grandi condizioni ma insomma c'è le foto c'è tutta la documentazione su questo ora poi a che momento oggi a gennaio siano arrivati non lo so ma questo intendevo dire quindi poi la cosa è stata capita è stata molto attenuata molto attenuata ma il fatto che sia sempre scattered cioè diffusa in maniera macchia di leopardo un po' in tante regioni del mondo a partire da Pakistan Afghanistan o qualsiasi Nigeria ed altri è evidente che non è facile dominare il mondo questo è il concetto nonostante i mezzi possibili quindi si ritiene che oggi non sia possibile ancora la eradicazione ma ci sia ovviamente raccomandabile e potente utilizzare questi metodi per ridurre l'incidenza e la morbidità dovuta a tutta una serie di infezioni ora torniamo al nostro tema il tema nel senso che è stato ventilato dal moderatore che ci sono parenti genitori che non scelgono di non dare i vaccini o che non vogliono alcuni vaccini o non vogliono assolutamente le vaccinazioni questo è stato oggetto di dibattito a Harvard già nel 2014 ma anche prima questa è Margaret Chang dell'OMS eccola qui e quindi parlavano di queste cose e sono cose evidentemente difficili da risolvere se no non ci sarebbe stata gente che si riuniva in questa maniera qui abbiamo il foglio del 17 che dice vaccinare salva l'umanità come noi sappiamo e abbiamo anche un libro del 18 il quale dice nel caso dei vaccini della salute come in quello dell'economia della politica o di altro la presunta natura tecnica inevitabile delle decisioni erode gli spazi della libertà personale e queste sono due idee due posizioni ecco io ho visto recentemente un libro molto nuovo molto nuovo almeno per me un libro che è il più autorevole che esiste sui vaccini e mette evidenza su due capitoli è un libro di circa 100 capitoli ma uno dei capitoli è l'etica dei vaccini che è un'etica particolare fra gli usi dei dispositivi o dei provvedimenti medici e l'altro è l'argomento dei problemi legali derivanti o possibilmente derivanti dei vaccini queste sono cose che vanno studiate e approfondite con dettaglio e con molto a cautela grazie grazie professore anche perché ci ha lanciato i temi poi successivi che tratteremo a proposito dell'etica e appunto a proposito della presunta democraticità o non democraticità della scienza che è un tema caro al professor Burioni che lei ha citato in una slide però il tema più immediato riguarda appunto la vaccinazione in età pediatrica e la paura che ha colto genitori giovani nuovi che evidentemente non avendo visto la malattia o non conoscendo questi dati oppure vedremo quali possono essere le altre ragioni non vogliono vaccinare i bambini o lo fanno con particolare paura grazie a tutti